Non si svegliò una mattina e disse, oggi svaliggio una banca. Chi è Patty Hearst? Patty Hearst? Amore? Ciò che conta è che la penso come te, ok? Ma perché tu la cosa... Amore? Finalmente a letto dopo una giornata di lavoro, eh? Facciamo la mia... Eh? Dai, ieri mi hai detto no. Anche l'altro ieri. Anche la settimana scorsa, cioè... Almeno oggi. Mi fai dormire, per favore? Oh. Non hai voglia? Buonanotte. Ma chi dorme? Avanti. Buongiorno. La lascia aperta? La comodi. Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Io l'avevo chiamata per il telefono, per dirle che, non so se si ricorda, la scorsa settimana, mia moglie non c'era voglia di far l'amore. Io ho provato, come ha detto lei, la carina, la dolcezza. Ha tolto la televisione dalla stanza? Sì, 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 ho messo solo un canale, Rai Uno, per il telegiornale. E niente. Niente. Ho capito. Io l'avevo già ordinato e tenuto proprio come ultima chance. Ah, vedi questa bocettina? Qua c'è la sua soluzione. La soluzione dei suoi problemi. Così si chiama, soluzione dei problemi. Attenzione, che questo è un ritrovato africano, molto pericoloso. Bastano qua poche gocce e vedrà che a sua moglie le tornerà la voglia di uomo. Lì arriverà al settimo cielo. Attenzione, che questa è una bomba. Se io metto qualche goccia... E vedrà che lì arriverà al settimo cielo. Anche sua moglie. Con la moglie, poi ovviamente... Attenzione, che è effetto immediato pure. Buono, meglio. Così non aspetto. C'è nient'altro, devo... Grazie, dottor. Arrivederci. Arrivederci. Alla porca, tu. Cara, la tua acqua. Grazie a tutti. E vedrà che a sua moglie tornerà la voglia di uomo. Caro. Caro. Ho una pazza voglia di uomo. Anch'io. Di uomo. Il uomo è venuta. Ho una pazza voglia di uomo. E vedrà che a mezza. E vedrà che a voi. E vedrà che a voi. ciao gli occhiali tu ce li hai eh sì c'è il sole ah beh dimmelo scusa non tene mai con gli occhiali oh che bella l'ho trovata bellissima potrebbe essere la corona di un re o di un principe di un principe quante favole ci sono con i principi con i re dai raccontamene una sì e allora c'era una volta c'era una volta un principe azzurro era un principe brutto c'era una volta quindi un principe azzurro ma brutto bruttissimo ma era tanto brutto questo principe bruttissimo guarda che in quella favola quel giorno cenerentola torno a casa le dice a me va bene questo è un po' è molto buono di fregato è un po' è un po' che è un po' che è un po' ma non è un po' ma non è un po' che è un po' Uomini, terra, cavallo, terra, cavalli. Chi sei, indiano? Sono penna all'arrabbiata. Che senti, indiano? Otto carri, dodici cavalli neri, otto bianchi, dieci buoi, undici torri. Trasportano grano, acqua. Come fai a capire tutte queste cose? E per forza, ora mi hanno passato la sopa. Proprio la sopa a me aveva una passata. Tutti addosso me li sento, i cavalli. Sire, Sire mi perdoni ma il popolo ha sete. Il popolo ha sete? Sire. Il popolo ha sete. È un problema serio. Il popolo ha sete? Sire. Che succede? I coccodrilli del fossato hanno fame. Hanno fame? Sì. Il popolo? Ha sete. I coccodrilli? Hanno fame. Intravedo la soluzione. Navegine. State tranquilli. Navegine. Navegine. Obegine. Tornitende. Si. Giudanza. Vuola non spezzi. Di sed.